Un'altra corsa d'ostacoli in appello per i parenti delle tante vittime uccise sì dall'amianto ma per colpa di chi non ha fatto nulla per ridurne il contatto. A dare manforte alle parti civili la procura generale di Venezia che ha ottenuto dai giudici di secondo grado una nuova istruttoria e una nuova perizia. Il quesito alla prossima udienza il 20 aprile. Il fascicolo è quello dei nove ammiragli della marina militare assolti in primo grado. Le accuse non aver provveduto a minimizzare i rischi per quei tanti laboratori sui mari dal Friuli alla Sicilia dal Veneto alla Puglia dalla Liguria alla Sardegna che sulle navi militari respiravano le fibre del minerale killer ben sapendo già allora che l'amianto sviluppa patologie tumorali mortali. Una latenza lunga il picco dei morti da mesotelioma pleurico nel 2025. Una corsa contro il tempo. Stanno decedendo tutti i datori di lavoro e nel nostro caso gli ammiragli che erano responsabili cioè cos'è deposizione di garanzia. Quindi stanno morendo non ci saranno più imputati. Quindi questi processi penali sono destinati a finire. Una corsa contro il tempo che non spaventa gli avvocati di parte civile da sempre impegnati a chiedere giustizia per quei tanti lavoratori dello Stato nei confronti dei quali a tutela della loro salute non furono adottate neppure misure a costo zero come l'uso delle mascherine. Grazie. Grazie. Grazie.